musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyudero e ragazzi anche oggi abbiamo un sacco di notizie beh fresche 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 relative al nostro fortnite parleremo ragazzi di un possibile grande ritorno di una delle skin più ambite dai giocatori di fortnite uno dei pezzi più rari in assoluto per chi vuole fare un buon armadietto bello costoso, bello interessante, tanto rara quanto la donna del pan di zenzero che vi ricordo attualmente è una delle skin più rare in assoluto e ovviamente parleremo anche di alcune cose che nuovamente si stanno muovendo per quello che riguarda fortnite per android perché ragazzi sembra davvero il lancio imminente quindi ragazzi mettetevi belli comodi comodi che andiamo insieme ragazzi allora parliamo subito di quello che è uscito in questi giorni lo sapete benissimo meglio di me ragazzi qualche paio di giorni fa sono arrivate le due skin dei Razzler la Furia Mascherata e la Snangrala che non ricordo bene come si chiami di nome e come vedete ragazzi ovviamente Epic Games ha accompagnato l'arrivo di queste skin proponendo sulla propria pagina Twitter un bel wallpaper che le raffigurava in una situazione forse ragazzi non tutti però hanno notato che come al solito come fa di solito Epic Games in questo wallpaper c'è dentro un piccolino easter egg di quelli che dici ah c'è l'easter egg dentro lì chi lo sa chi lo sa guardate un po' ragazzi guardate un po' che cacchio c'è tra il pubblico ragazzi possiamo vedere diverse figure del mondo di Fortnite Battle Royale come in questo caso e più lontano due figure del Save the World della sezione Save the World l'avete riconosciuta? eh sì ragazzi eh sì ragazzi tra quelli spettatori ragazzi c'è la viatrice ragazzi una delle skin più ricercate in Fortnite una delle skin che probabilmente sarà al centro degli scambi o dei regali non appena verranno resi disponibili per tutti come vedete ragazzi potrebbe essere un nuovo easter egg come quello dell'omino pan di zenzero in poche parole che hanno fatto uscire in diversi wallpaper addirittura anche sullo sfondo di un ballo qualche giorno fa e ovviamente relativo potrebbe essere al 25 luglio che vi ricordo ragazzi per noi è il 25 luglio ma è una festa natalizia in alcune parti del mondo tra l'altro ragazzi abbiamo anche visto come ieri sono stati resi ufficiali i regali che Epic Games ci darà la domanda è adesso tutte le cartelle che abbiamo visto in questi giorni che parlavano appunto Gift Send Gift Recive sono relative a quelle quattro cagattine che ci danno o sono relative alla possibilità di implementare i regali su Fortnite e soprattutto al rilascio della nuova faranno anche se non ricordo male dovrebbe arrivare anche una nuova modalità il 25 luglio al rilascio della nuova modalità della nuova patch del compleanno chiamiamola così Fortnite veramente non metterà altro cioè mi stai dicendo che dopo un anno che c'è Fortnite e con tutti i milioni che hanno guadagnato noi ci riceviamo uno spray un emote e un backpack e 5000 punti esperienza io spero davvero che non sia così perché ragazzi sennò sarebbe veramente veramente un po' triste come cosa potevano fare di più speriamo non deludano i giocatori ma ragazzi miei ma ragazzi mi tengo mi tengo mi tengo mi tengo porca miseria ragazzi vi faccio vedere una roba che è stata trapelata dai dataminer pochissime ore fa si parla di questa notte ragazzi sono le 5 e mezza del mattino adesso che io sto registrando è una notizia che dovrebbe essere di 6 7 ore fa non di più state pronti 3 2 1 assaccata fai mi accionarmi fai sempre vedere le righe di codice si ragazzi ti faccio sempre stai fermo mi faccio sempre vedere le righe di codice perché ragazzi sono stati recuperati nella sezione gameplay del codice sorgente di fortnite 3 nuove variabili che state vedendo in questo momento e non sono variabili proprio da lasciar perdere ragazzi sono variabili incredibili vi ricordate che qualche giorno fa avevamo fatto il video sul primo dispositivo android dove girasse fortnite che era la nvidia tv shield che è praticamente la console di nvidia nella quale viene sviluppato e fatto girare il sistema operativo android e sulla quale da tre giorni a questa parte gira una versione stabile e normalissima di fortnite beh ragazzi questi sono tre file relativi al motore di android nella cartella del gioco principale per pc e per console di fortnite questo ragazzi vorrebbe veramente dire che ci siamo che ci siamo anche perché io vi ricordo che il 18 maggio durante la conferenza delle tre di los angeles quando era salita sul palco quando era salito sul palco il ceo di epic games aveva detto quindi è una notizia ufficiale che fortnite per android sarebbe stato rilasciato in pochi mesi si parla appunto del 18 maggio e comunque non dopo l'estate beh ragazzi abbiamo visto giorni precedenti che ci sono state nuove implementazioni sulle cartelle di android nel codice sorgente di fortnite vediamo che qualche ora fa viene preparato anche il motore su android che potrà far girare fortnite addirittura la seconda voce si chiama androidgame.ini che dovrebbe essere una chiave di registro proprio dedicata al gioco in sé e anche la terza che a voi forse non dice niente ma è importantissima per chi mastica un po' di informatica l'android runtime option dovrebbe essere una variabile relativa alle dll che possono far girare un determinato videogioco andando appunto ad appoggiarsi a directory già esistenti di gioco stiamo un po' masticando troppo nel dettaglio quindi voi per il momento ragazzi state ancora con un attimo di pazienza siamo tutti qua che lo stiamo aspettando da mesi da mesi e ancora non è arrivato siamo sicuri che ci metterà veramente ancora pochissimo e poi ci potremo giocare quindi ragazzi ancora un po' di pazienza ma nel frattempo mi raccomando un bel pollicione in su se vi è piaciuto questo video e non dimenticate di iscrivervi tantissimi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao